Il telescopio spaziale Hubble è un telescopio che sta a bordo di un grande satellite dalla forma di doppio cilindro. Lo specchio principale del telescopio sta in questa zona ed è grande quanto un tavolo rotondo per 12 persone. Insieme a uno specchio secondario grande quanto un piatto concentra la luce su 5 strumenti di piano focale che stanno in questa zona del telescopio. L'energia è data da due grandi ali di pannelli solari che trasformano la luce del sole in energia elettrica. Per comunicare sul telescopio ci sono due antenne paraboliche, una da un lato e una dall'altro lato, qua sotto non si vede. E di particolare infine questo telescopio ha un coperchio che può essere chiuso all'occorrenza per proteggere il telescopio e gli strumenti dalla luce diretta del sole che altrimenti li brucierebbe. Il telescopio spaziale Hubble è stato messo in orbita intorno alla Terra nel 1990 e da allora per ben 5 volte gli astronauti lo hanno visitato a bordo dello space shuttle per fare della manutenzione, per riparare delle parti rotte, per cambiare i pannelli solari e per sostituire gli strumenti che ci forniscono le immagini. Per colorarlo senza dubbio i colori principali sono il blu per i pannelli solari e il grigio per la struttura del telescopio che è fatta principalmente di alluminio. Certo possiamo dare anche qualche tocco di giallo per rappresentare quello scintillio tipico dei metalli quando vengono colpiti direttamente dalla luce solare e la riflettono. Indubbiamente molti più colori li ritroviamo nelle immagini che Hubble ci fornisce di stelle, pianeti, galassie, asteroidi, lune, insomma di quasi tutti gli oggetti che possiamo trovare nell'universo. Il telescopio spaziale si chiama Hubble in onore di un grande astronomo che il secolo scorso ha fatto molte scoperte in campo astronomico, più importanti delle quali il fatto che il nostro universo si sta espandendo, come se fosse una grande pasta per la pizza che ancora sta lievitando. Il 24 aprile il telescopio spaziale Hubble festeggia il suo compleanno perché sono ben 30 anni che si trova in orbita. Sono tantissimi per un satellite, soprattutto se si pensa che funziona ancora benissimo e ci invia ancora tante bellissime immagini coloratissime di molti oggetti celesti. Dai festeggiate il compleanno di Hubble insieme a noi e inviateci sui nostri social i vostri capolavori. Tanti auguri Hubble! Grazie a tutti!